È semplice come ambiente, però ai gatti stanno avendo un'ottima risposta. Gli ho messo anche le menzoline, perché così riescono a spostarsi ovunque. La finestra, quindi c'è la menzola anche alla finestra, perché così guardano fuori. La sedia, è un ambiente piccolino, però sta piacendo ai gatti. Tiragraffi di ogni forma, cucce sospese, morbide e coperte. Insomma, un hotel a 5 stelle per gatti, per quando i proprietari sono in vacanza. Materia gatti siamo molto indietro. Sui cani hanno fatto grossi passi avanti negli ultimi anni. Sui gatti speriamo che questa mentalità si apra sempre più. Hanno bisogno di affetto anche loro, hanno bisogno di attenzione anche loro. Rischiano di stressarsi. Sono molto delicati i gatti. L'innovativa pensione per gatti è nata a Montagnano, in provincia di Arezzo, dalla passione per gli animali di Carlotta, alla quale si aggiungono anni di formazione. Prego. Impari tantissimo dai singoli gatti, dai proprietari, perché devi ascoltare le esigenze dei proprietari, devi ascoltare le esigenze dei gatti. I mici vengono accolti in una struttura di legno, fresca in estate e calda in inverno. Ogni camera, avendo le sue finestre, qua è una zona ventilata, quindi l'aria riesce a circolare bene, quindi siamo riusciti a parlare nuovamente di benessere animale. 5. La cameretta a disposizione per i gatti, stanze singole o per più mici dello stesso proprietario. Ognuno ha la sua paletta, ognuno ha la sua ciotolina, ognuno ha la sua situazione. Prima che arrivi un altro gatto viene disinfettato tutto, lavato tutto, cambiato tutto, ci si sta, attentissimi. Massima attenzione anche dal punto di vista sanitario. Tutti hanno il vaccino per la leucemia felina. Io devo essere sicura che il gatto che mi entra è protetto e che gli altri gatti che verranno saranno protetti come lui.